Partono i lavori in piazza Gaudenzio Sella a Biella per realizzare il primo parco fotovoltaico nel centro cittadino. Dove è sede la banca Sella, l'area tuttora è adibita a parcheggio pubblico e al termine di questo intervento diventerà un parking fotovoltaico. Un intervento che durerà 5 mesi e per evitare il più possibile disagi sarà suddiviso in due lotti. Il progetto è stato approvato dal Consiglio Comunale lo scorso mese di novembre. Verranno installate 5 pensiline la cui sommità sarà ricoperta da 632 pannelli fotovoltaici per produrre energia elettrica verde. I pannelli faranno anche da copertura alle autovetture e in questo modo la funzione pubblica dello spazio continuerà ad essere tutelata. Intanto lo gruppo Sella proseguirà nello sviluppo di interventi a impatto positivo. Secondo il progetto che era stato approvato a Palazzo Ropa, l'intervento prevede anche la realizzazione di marciapiedi, della posa di rampicanti, della piantumazione di diverse essenze di media grandezza. Tutto in un'ottica di politica green. Il progetto prevede anche l'installazione di colonnine per ricaricare i veicoli elettrici. Grazie.